Salve ragazzi, benvenuti nella prima battaglia della Nightmare quella per l'abitato di support, a cui dobbiamo affrontare Jigas the Great tra le obiettive abbiamo non perdere nessun personaggio, ridurne l'attacco, ridurne la difesa non avendo nessuna debolezza e portando un team full fisico ecco qua, cominciamo questo boss quando subiamo i danni si avvicinerà e farà vedere che picchierà la parete per chiamare poi altri dei minion, altri mostri quindi se volete potete addormentarlo così lo fermate però comunque se lo addormentate dovete poi dare di magia per non svegliarlo altrimenti potete anche tranquillamente continuare a picchiarlo senza alcun problema alla fine il minion non è niente di che morto il boss la battaglia finisce perché se non mi sbaglio se uccidete il minion non ne rievoca un altro quindi non cambia molto perdere quel paio di turni e toglielo da mezzo e e mi sa che con la borsa di lightning la uccido ecco qua si come tu puoi vedere non è eccessivamente potente e se non so ma sembra che quando comincia a picchiare la paleta non agisca quindi sono dei turni in V gratis per continuare a fargli danno non dimenticate di durare difesa e l'attacco per l'obiettivo grazie per la visazione a breve posto ai prossimi grazie ciao